Allora, buongiorno ragazzi, questo vlog è un po' improvvisato perché in un giorno qualsiasi sono andata all'attrito a fare benciolo, quindi la situazione è questa, siamo imbratati, ci hanno appena fatto un breve corso per capire come usare le carabine e noi eravamo arrivati qui tutti sparati, ah ma sarà per bambini, magari in esso ci divertiremo, vabbè è stato di fatto che siamo stati lentissimi a capire i procedimenti per agganciarci, arriviamo al percorso io faccio 8000 domande alla vizio dello staff perché dopo tutta la spiegazione su come agganciarci vi ho chiesto se mi dovevo agganciarci, e va bene. Ok, ho appena fatto le prime parti di blend della mia vita, comunque mi tremano ancora le gambe, sarò bellissima, e adesso prendiamo che non c'è scoppiante. Nooo! Esatto! Ecco, questa è un'altra cosa che ci hanno insegnato al corso di sopravvivenza, quindi prima di iniziare. Vediamo un po' di grande. Benissimo? Benissimo! Benissimo! E' un uomo pentito della proposta fatta oggi Salto? No, guarda Guarda veramente amore Oddio, sono sicura di stare morta Spero che questo video vi sia piaciuto E non dimenticate di iscrivervi al mio canale E di seguirmi su tutti i canali social Vi abbraccio, ciao! Ciao!